Finisce 0-0 tra Arezzo e Lucchese nel campionato Berretti, si allunga la scena di partite senza vittoria della squadra di Abruscato. Al sesto minuto Lucchese è pericolosa con Tonazzini che non trova la porta per pochi centimetri concludendo da pochi passi, sfruttando un errato disimpegno della difesa Amaranto. Il primo pericolo dell'Arezzo al 28esimo, Florindi sfonda sulla sinistra per poi servire al limite Rampelli che va al tiro in spaccata dopo aver controllato male il pallone. Si viaggia sullo 0-0 nella ripresa, al quarto d'ora ci prova Rampelli di collo pieno dai 25 metri dopo una corta respinta della difesa ospite su cross di Fiorindi. La palla finisce alta sopra la traversa. A un quarto d'ora dallo scadere Colai vola sulla sua sinistra deviare in angolo una conclusione a botta sicura dal limite di Metolli dopo un rimpallo sulla prima conclusione di Fiorindi. A un minuto dalla fine clamorosa occasione per Nottolini che si vede deviare in angolo da Garbinesi, la conclusione a botta sicura di Nottolini che aveva approfittato di una serie di rimpalli in mischia in mezzo all'area di rigore. Finisce 0-0 tra Arezzo e Lucchese. Tiro Elvis, quest'oggi è un punto in un campo pesante qua alla nave, però è una partita che si poteva anche vincere contando gli episodi. Sì, contando gli episodi, gli episodi assolutamente si poteva portare a casa a qualcosa di più di un punto, ma sono contento per i miei ragazzi, hanno fatto una buona prestazione in un campo molto difficile, un campo che richiedeva un'applicazione e soprattutto una grande gamba, però i ragazzi sono stati bravi, sono stati attenti, abbiamo rischiato poco. Peccato, peccato non aver portato a casa il punteggio pieno, ma penso che sotto il profilo della prestazione diamo continuità a quello che stiamo facendo. Domenica, Viterbese è una partita dove si può interrompere la striscia di sei partite senza vincere? Assolutamente sì, vogliamo assolutamente cercare di trovare questi tre punti, il problema di trovare tre punti quando non vengono possono essere emotivi dal punto di vista di voler far troppo e poi magari si vanno a intaccare degli equilibri, quindi ci vuole sempre molto equilibrio, determinazione come si è messo oggi, tutto il resto è di conseguenza.